Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale Justineapp. Io sono Justine e oggi voglio presentare un'app magica. Alcune volte si sa, non sono le grandi app a sorprendere, ma le piccole perle di cui l'App Store è pieno. Sfortunatamente però non è facile scovarle fra le ormai tantissime applicazioni. Oggi voglio però condividere con voi una di queste perle. Barry è un applicativo che realizzerà in modo semplice e immediato uno screenshot della pagina web che state visitando. No, non è come premere il pulsante Sleep contemporaneamente al tasto Home, dato che Barry salverà l'intero sito web consentendoci di avere un'immagine a scorrimento continuo che lo rappresenti nella sua integrità. A mio avviso è una funzione che sta fra il miracoloso ed il magico, anche se effettivamente altro non sono che più immagini sovrapposte, ma si sa è l'effetto quello che conta. Gradite sono anche le features che offre l'app nelle sue impostazioni. Potremo infatti linkare il nostro account Dropbox, salvare o no in maniera automatica le foto nel nostro urlino, deciderne la qualità ed infine installare un segnalibro in Safari che ci consentirà, senza dover fare copia e incolla del sito che stiamo visitando, di saltare direttamente da Safari allo scatto automatico all'interno dei Barry. Insomma, la realtà alcune volte supera ancora la fantasia. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube, così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod. Di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple. Vedete, già abbiamo tantissime persone nella community. E infine di seguirci in podcast. Usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple. Siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes. Ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi. Insomma, trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.